Il riconoscimento del lavoro svolto in passato, che stiamo svolgendo ora, ma più che altro la prospettiva delle attività che potremo in futuro compiere al servizio del Paese. È un ruolo e una responsabilità importante per tutto il nostro istituto, per tutti con noi che ci lavoriamo e per noi che lo facciamo con una brengazione è un convincimento molto grande, enorme, perché noi non dimentichiamo dove veniamo, ma sappiamo dove andiamo, perché diversamente dall'immagine che si usa spesso delle radici, noi abbiamo gambe, abbiamo gambe forti che crescono sempre di più, forti dell'esperienza del nostro passato, ma che guardano al futuro per continuare a correre e aiutare il Paese a correre sulla via dello sviluppo, della coesione e della crescita.